Jess? Sono fuori dal circuito. Mac? Mac Attack pronto all'azione. Hai chiamato il camion Mac Attack. Se l'ha scelto lui. Rav, portatevi l'auto e io penso al resto. È ora di diventare ricchi, Tyler. Ecco il nostro obiettivo. C'è lo scommettitore. Uh, guarda qua. È una giornata perfetta per una corsa. Ti ho giocato 4 a 1 al primo posto. Ora, so che il prototipo non mi deluderà, ma mi chiedo... Riuscirai a domarlo? I motori elettrici e il V8 Twin Turbo danno una potenza di... 1500 cavalli. Sì, no problem. Uh, uh, ma che bravo! Hai fatto i compiti. Adesso senti. Il secondo posto non mi serve. Capito? Sai il fatto tuo. Non fare casini, campione! Sospetta qualcosa? No, niente. Wow, potenza e coppia di questo mostro sono... La Super Mustang di Ravel non le si avvicina nemmeno. Tyler, sei come un fratello, Berlino. E in questo momento ti odio tantissimo. Baret sia il miglior pilota in Italia, Morgan. Di notte. Dai, preparati. Devi passare il punto di incontro ad alta velocità. Abbiamo una sola possibilità. Bate e salto. Non potremo tornare indietro. Max, sto arrivando al ritrovo. Vedi di essere in posizione. Ci sono quasi. Quasi? Max. Tu allinea lei e corri. Vida. Ci siamo, ragazzi. Non fate capire. Max, sto arrivando. Ciao.